Dopo sei anni di lavori e molte polemiche, domani pomeriggio taglio del nastro del nuovo mercato coperto, oggi store coin, il plauso di CNA. I vertici dell'azienda del trasporto pubblico scrivono al prefetto dopo gli episodi di violenza ai danni dei lavoratori. I facchini dell'ex cooperativa GFE restano senza cassa integrazione, da tre mesi non arriva l'assegno, la CGL è accusata di non fornire risposte. Isolata la giunta del comune di Novellara sul caso del nuovo megacentro commerciale, Contrari e tutte le associazioni di categoria. Colpo di scena in consiglio comunale a Guastalla, giunta e maggioranza sull'Aventino per protestare contro il presunto atteggiamento istruzionistico delle opposizioni. Giovedì 29 marzo, buona serata, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli, sei anni di lavori e un mare di polemiche, domani dunque riapre uno dei punti storici del commercio reggiano, ovvero il mercato coperto. Prevista una grande inaugurazione in via Emilia che sarà chiusa, cambiate per l'occasione le linee dei mezzi pubblici, ma sentiamo Cristiana Boni. Torna a nuova vita il mercato coperto, lo storico edificio nel centro della via Emilia. Una riqualificazione durata sei anni e non senza polemiche, che doveva riportare al suo interno 25 operatori commerciali, ma in itinere il progetto è cambiato e tra poche ore l'inaugurazione dello store Coin, unico operatore ad occupare l'intera struttura. Curiosità di tanti reggiani che in queste ore si sono fermati in piazza Scapinelli dove i camion stanno scaricando le ultime cose o all'entrata principale ancora blindatissima per un'apertura che alcuni leggono come una possibile rinascita del centro e un investimento importante sulla città in epoca di crisi o al contrario il colpo definitivo a tante attività limitrofe, solo il futuro potrà dirlo. 12 milioni di euro il progetto complessivo in project financing che si è aggiudicato nel 2006 l'associazione di imprese costituita da Tecton e Cop7, la galleria e la società che gestirà il mercato. Interni sofisticati in tinta panna ma tutto sarà svelato all'inaugurazione ufficiale, una superficie di vendita di 2350 metri quadri in vendita abbigliamento per donna uomo bambino, intimo, accessori, biancheria fino alla profumeria. 34 i dipendenti. Coin annuncia poi che saranno gli stessi clienti a fare da testimonial. Le foto dei loro visi comporranno il logo che comparirà sulle vetrine e sui materiali all'interno del punto vendita. Come anticipava Andy Warhol, nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti oppure forse un modo economico per attirare clienti e attenzione. Disagi intanto previsti per la circolazione, parte della Via Emilia sarà infatti chiusa per il taglio del nastro. Opportunità, attrattività e collaborazione in vista dell'inaugurazione di domani sono queste le tre parole scelte dalla presidente di CNA Commercio Annarella Ferretti per commentare l'apertura del nuovo Maxi Store Coin all'ex mercato coperto. Un'attrazione in più per far tornare i cittadini nel più grande centro commerciale naturale della provincia, l'Esagono. Pesantissimi i disagi nel traffico autostradale della 1 tra Reggio e Modena nel pomeriggio di oggi per la protesta della FIOM. Le tute blu dovevano sfilare in Via Emilia Ovest per poi raggiungere la tangenziale, ma i manifestanti che protestano contro la riforma del lavoro e in difesa dell'articolo 18 hanno contravvenuto al programma, bloccando la circolazione causando così gravi disagi e code. Autostrade per l'Italia fa sapere che la circolazione è stata bloccata tra il bivio per l'A22 del Brennero e Modena Nord in entrambe le carreggiate, segnalati inoltre code di due chilometri verso Bologna a partire da Reggio e incolonnamenti di tre chilometri in direzione di Milano a partire da Modena Sud. Sono state inoltre chiuse per alcune ore le entrate di Reggio e Modena Sud. Per arginare la situazione sono intervenuti sul posto gli operatori di autostrade per l'Italia e gli agenti della polizia stradale. Cambiamo argomento, alcune famiglie attendono ancora una sistemazione dopo aver perso la casa ieri nell'incendio di alcune villette a Bibiano. Ma sentiamo tutti i particolari da Isabella Trovato. Bibiano, il giorno dopo il devastante rogo che ha investito un'intera palazzina di via Franchetti, si contano i danni alla ricerca delle migliori soluzioni per dare un tetto alle cinque famiglie rimaste senza casa. In prima linea proprio l'amministrazione locale che si è attivata da subito ieri, ospitando in un albergo di Cavriago tre delle cinque famiglie evacuate, mentre per il nucleo di stranieri con la bimba piccola è stato trovato già un appartamento. Il quinto sfollato ha trovato dimora presso un amico. Ma l'attività del comune non si ferma la prima notte. Anche oggi le famiglie resteranno in albergo, ma sono già pronti gli appartamenti dove alloggeranno. Si tratta solo, fanno sapere del municipio, di sottoscrivere i relativi contratti di affitto. Tutte e cinque le famiglie infatti erano affittuarie. Titolare dell'immobile è la moglie brasiliana di Riccardo Ferretti, il volontario bibianese che si occupava del recupero dei bambini di strada in Brasile, ucciso nel 2008. La struttura è coperta da assicurazione e quindi il comune dovrebbe recuperare eventuali anticipi di caparra. Il rogo, lo ricordiamo, è partito dalla stufa di una cucina del terzo piano. Ha interessato il sottotetto distruggendo i tre appartamenti mansardati, ma ha danneggiato anche quelli sotto per le infiltrazioni d'acqua utilizzata dai vigili del fuoco per spegnere l'incendio. La direzione aziendale di Seta ha inoltrato al prefetto di Reggio Antonella De Miro una richiesta d'incontro per esprimere la propria preoccupazione in merito a ripetersi di episodi di vandalismo e bullismo a bordo degli autobus, nonché di violenza nei confronti del personale ispettivo e dei conducenti. Il presidente di Seta, Pietro Odoricci, e l'amministratore delegato Claudio Ferrari hanno scritto congiuntamente al prefetto. Senza cassa integrazione da dicembre, gli irriducibili facchini dell'ex cooperativa GFE tornano sul piede di guerra. Sono a casa senza soldi da mesi e questa volta si rivoltano contro lo stesso sindacato. Sono a casa ancora senza lavoro e adesso anche senza soldi perché è da dicembre che non incassano la cassa integrazione. L'ammortizzatore scada ad aprile ma l'accredito sul conto corrente non arriva dal mese di gennaio. È la condizione in cui versano i facchini dell'ex cooperativa GFE, salite agli onori della cronaca in questi anni di crisi per i lunghi presidi, davanti agli stabilimenti della SNAT logistica con lo sciopero della fame e della sete e poi davanti alla provincia in Corso Garibaldi a Reggio. Un copione già visto quando lo scorso anno ci fu una sorta di scarica barile tra sindacato, provincia e regione perché per mesi i lavoratori non percepirono l'assegno. Ora gli ex facchini si rivoltano contro il sindacato al quale chiedono risposte sui mancati pagamenti. Questo accordo non è stato mantenuto, solamente 40 persone sono ritornate al lavoro. Nel frattempo noi abbiamo preso la cassa integrazione però da due mesi questa cassa integrazione non la riceviamo più. L'ultima volta che l'abbiamo ricevuta anziché di 650 sono arrivati 580 e la CGL non sa darci risposte. Ci danno risposte vaghe e insomma noi ci sentiamo presi in giro dalla CGL. Dopo mesi di attenzione mediatica per le forme di lotta intraprese, i riflettori sui lavoratori dell'ex cooperativa si erano spenti a luglio del 2011, quando la CGL aveva firmato lo storico accordo in regione per il riassorbimento a scaglioni degli operai, circa 200. Da allora alcuni di loro sono rientrati nella terra d'origine, altri portano avanti una causa nei confronti di SNAT Logistica. Altri sono andati incontro a promesse non mantenute. Insomma il caso GFE continua a riservare sorprese. La Corte d'Appello di Bologna si è riservata di decidere sull'eventuale adottabilità di Anna Giulia, la bimba che nel 2010 fu sottratta dai genitori Massimiliano Camparini e Gilda Fontana, prima i servizi sociali, poi da una casa vacanze a Marina di Massa. Da un anno la piccola è affidata ad un'altra famiglia. Anche stamattina in aula c'erano i genitori e i nonni paterni insieme al loro difensore, l'avvocato Francesco Miraglia. Tecnicamente il giudice dovrebbe esprimersi entro cinque giorni, ma il tempo potrebbe comunque essere più lungo. Il giudice potrebbe dichiarare la bambina non adottabile e quindi dare indicazioni sull'iter per il ritorno nella sua famiglia d'origine. Sarà aperto un nuovo confronto sugli effetti che il futuro centro commerciale di Novellara potrebbe avere sulle attività dei centri storici della Bassa. Ce ne parla in questo servizio Antonio Lecci. Chiamiamolo pure assedio al comune di Novellara, quello sulla vicenda del futuro megacentro commerciale Bennett previsto in costruzione alla periferia della cittadina della Bassa. Non solo le opposizioni in consiglio comunale, come Lega Nord e PDL, fanno sentire la loro voce dopo aver dichiarato per mesi la critica a questo progetto. Anche le associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti, CNA ribadiscono le perplessità in merito agli effetti negativi che il megacentro potrebbe portare a danno delle attività del centro storico di Novellara e non solo. La sorpresa è però rappresentata dalla novità che le tesi del centro-destra e delle associazioni dei commercianti vengano sposate in pieno da ben sette sindaci della Bassa che, come abbiamo riferito due giorni fa, chiedono un ulteriore confronto, soprattutto sul futuro dei centri storici, per non vanificare tutti gli sforzi compiuti finora per sviluppare le attività e l'attrazione del cuore vitale dei vari paesi. E anche la CGL si schiera con questa specie di alleanza antricentro commerciale che lascia isolata la giunta novellarese, la stessa che finora ha organizzato incontri, tentato di rassicurare, spiegato progetti, ascoltato pareri, proseguendo però sulla strada intrapresa, e cioè il via libera al megacentro commerciale, che sarà pure previsto da un apposito piano commerciale del territorio, ma che forse non è aggiornato e non tiene conto della realtà economica e sociale che sta vivendo ora la realtà reggiana. Eppure la tesi sull'aumento dei posti di lavoro con l'avvento del megacentro Bennett, sostenuta a più riprese dal municipio novellarese, non sembra del tutto attendibile. L'esperienza insegna, conferma la CGL, che si tratta in gran parte di lavoro precario ma retribuito, che comunque non si aggiunge ma semplicemente si sostituisce a quello delle attività che però rischiano la chiusura. Si trova di nuovo in carcere a Diltassa, il marocchino di 28 anni che sabato notte ha minacciato di farsi saltare in aria con una bombola di gas nell'appartamento di Cadelbosco sopra, in cui da quattro mesi era agli arresti domiciliari. Il magistrato di sorveglianza di Reggio gli ha infatti sospeso il beneficio degli arresti domiciliari. Il giovane pluripregiudicato, dopo le cure all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, è stato quindi condotto in carcere. Ed ora voltiamo pagina. L'economia locale in crisi perché sta crollando il sistema che lega politica e cooperative di sinistra. Il PDL attacca il Partito Democratico. Dal fallimento della cooperativa Muratori Reggiolo, con un buco che si aggirebbe sui 150 milioni di euro, alla delicata vicenda a terremerse che vede coinvolto il presidente della regione Vasquerrani per presunti favori al fratello costruttore. Il PDL parla di una crisi etica della sinistra che, a domino da una decina d'anni, sta facendo crollare un sistema di potere che legava cooperative e politica. Stipendifici a favore di un potentato, così li definisce il consigliere regionale Fabio Filippi. È finito un sistema. Mi hanno detto, adesso farò un'interpellanza, che la cooperativa di Reggiolo aveva oltre 50 funzionari a circa 5.000-6.000 euro al mese e una decina di dirigenti a oltre 10.000 euro al mese. Se è vero, non è una cooperativa, ma è uno stipendificio. Sul tema, il PDL ha organizzato un incontro venerdì alle 19.30 alla pizzeria Marcorti. Come può la politica e soprattutto il PDL fare in modo che ci sia un futuro per la nostra economia e i nostri territori? Io credo che un ricambio sia essenziale per l'economia della nostra regione. Quindi il PDL vede un brillante futuro sulla scena politica, un dopo Monti? Noi ci impegniamo per fare il nostro lavoro, per creare e dare fiducia agli italiani. E Monti come sta lavorando? Monti è un banchiere. Io purtroppo non ho grande stima dei banchieri. E noi ci fermiamo, c'è un intervallo pubblicitario per ritrovarci subito dopo. Bene, bentornati in studio. Siamo pronti per ripartire, non prima di avere riepilogato i principali fatti del giorno. Dopo sei anni di lavori e molte polemiche, domani pomeriggio taglio del nastro del nuovo mercato coperto, oggi store coin, il plauso di CNA. I vertici dell'azienda del trasporto pubblico scrivono al prefetto dopo gli episodi di violenza ai danni dei lavoratori. I facchini dell'ex cooperativa GFE restano senza cassa integrazione. Da tre mesi non arriva l'assegno. La CGL è accusata di non fornire risposte. Isolata la giunta del comune di Novellara sul caso del nuovo megacentro commerciale. Contrari e tutte le associazioni di categoria. Colpo di scena in consiglio comunale a Guastalla. Giunta e maggioranza sulla Ventino per protestare contro il presunto atteggiamento istruzionistico delle opposizioni. Ed ora andiamo a Bibiano. A fine estate chiude la sede IREN. Nessun disagio per gli utenti, così assicurano unanimi aziende e comune. Il cartello campeggia da almeno sei mesi davanti alla sede dell'IREN di Bibiano. Impossibile non notarlo e per un forestiero chiedersi che accade in quel della Valdenza, tra la Multi Utility, il comune capo distretto e di lavoratori. Poche frasi. IREN chiude il centro zona. Ditelo al sindaco. Un palese invito a chi abita nel distretto e accede ai servizi della partecipata. Il quadro è poi presto ricostruito. È in corso una ristrutturazione di IREN. E la sede di Bibiano entro la fine dell'estate sarà dismessa. Ma assicurano le istituzioni e la stessa IREN senza alcun disagio per gli utenti. Su questa proposta si è stavolata una trattativa col sindacato e anche con l'amministrazione pubblica che credo abbia portato a degli esiti positivi. Lo sportello per il pubblico resterà collocato sempre a Bibiano, in una zona centrale del paese. Noi abbiamo fatto due proposte all'azienda che ci dovrà dire quali delle due preferisce. A trasferirsi a Reggio è il servizio di manutenzione. Dunque per i cittadini, quando ci sarà un problema, i tecnici partiranno dalla centrale di Coviolo. Resta da capire, una volta chiusa la struttura della Valdenza, che ne sarà del bene di proprietà della Multi Utility. Un problema questo che al momento non interessa agli altri centri zona, e cioè Gualtieri, Scandiano e Castelnuovo Monti. Se i giovani si mettono insieme, è incredibile quanto riescono a cambiare le cose. Queste sono le parole di Anna Maria Santoro, insegnante di Palermo, autrice del libro Una mamma in addio pizzo, che questa mattina era a Bibiano per raccontare la sua esperienza agli studenti della scuola media Dante Alighieri, nell'ambito delle iniziative sulla legalità rivolte ai più giovani e promosse da provincia e consorzio Oscar Romero. Ad avvicinare Anna Maria all'antimafia, il figlio giovanissimo che insieme ad altri sei coetanei, una notte tappezzò la città di Palermo con degli adesivi che recavano la scritta Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Animato consiglio comunale ieri sera a Guastalla, c'è stato un abbandono improvviso della seduta per una protesta simbolica. Sentiamo Antonio Lecci. Una fuga dal consiglio, un abbandono programmato della seduta consigliare ieri sera a Guastalla, ma stavolta non è stata un'iniziativa delle minoranze di fronte a qualche atteggiamento di chi governa. Sono stati consiglieri di maggioranza e assessori a uscire improvvisamente dalla sala consigliare del municipio guastallese dopo aver cambiato l'ordine del giorno e discusso degli argomenti ritenuti più interessanti dalla stessa maggioranza. La motivazione di questo gesto sta in una protesta simbolica contro un presunto atteggiamento scorretto che sarebbe stato tenuto da tempo dalle opposizioni, compreso il recente abbandono della seduta della Commissione Affari Istituzionali, dove si stava discutendo della questione SOVA, la società per la valorizzazione culturale e turistica di Guastalla. A spiegare le rispettive ragioni sono, in botta e risposta, Fabrizio Alfieri per la maggioranza e Massimo Comunale per le opposizioni. I vostri punti e dopo che toccava alla minoranza discutere i propri, per cui c'è stato anche dei punti della minoranza. Comunque chiediamo un atteggiamento di dialogo dalla minoranza. Questo sia il dialogo? E questo è il dialogo? I fatti precedenti hanno motivato che questo fino adesso non c'è. Questo è il dialogo? La motivazione per l'uscita sta da quella. Cioè abbiamo bisogno di collaborazione dalla minoranza e fino adesso non c'è. Noi vogliamo trattare tutti gli argomenti in un modo democratico, però ci sembra che la minoranza faccia solo dell'astruzionismo. Al Presidente del Consiglio, Francesca Fiorani, non è rimasto altro che chiudere la seduta e dare la buonanotte. E alle critiche della maggioranza risponde il Consigliere Camilla Verona, membro delle opposizioni. Noi riteniamo che questo gesto sia non tanto colpa delle minoranze come loro ritengono e come vogliono far passare quanto un problema legato a una grossa frattura che c'è all'interno della nostra maggioranza di Guastalla. Non per niente il Sindaco stasera era assente, giustificato, ma sicuramente era a casa. L'assessore Manfredotti è uscito prima ancora che venisse affrontato il punto dell'ordine del giorno riguardante l'ASP presentato da tre leghisti. Quindi indubbiamente c'è all'interno della loro maggioranza qualche difficoltà particolarmente forte che si è manifestata stasera. E da Guastalla passiamo a Novellara. Sono in funzione già da diversi mesi, ma si è voluto attendere la primavera per festeggiare la realizzazione dei due impianti fotovoltaici realizzati dal comune di Novellara a copertura del parcheggio della zona sportiva commerciale di Galleria dei Cooperatori e della palestra di San Giovanni. Sabato prossimo alle 10 verranno inaugurati ufficialmente gli impianti che potranno produrre circa 470 mila kilowatt anno pari al fabbisogno di circa 130 famiglie. Affollato il centro storico di Boretto per il motoraduno nazionale di primavera. Vediamo. È stato un successo il motoraduno nazionale di primavera che si è svolto a Boretto richiamando lungo le rive del Po oltre un migliaio di partecipanti arrivati da diverse regioni italiane. Un raduno che per quest'anno non ha usato lo spettacolare scenario del Lido del Grande Fiume per l'esposizione delle moto di ogni tipo, dimensione ed epoca. I mezzi a due ruote sono stati posti in Piazza Nenni, forse meno caratteristica rispetto al porto turistico facciato sul Po, ma probabilmente più ampio e meglio collegato alle altre strade del centro storico in cui poter allestire in modo più pratico anche i vari stand degli accessori e degli oggetti legati al mondo dei centauri. Rombo di motori e colori sgargianti sono stati i protagonisti di questa vera e propria festa che ha permesso ai partecipanti di conoscere meglio anche i luoghi della bassa grazie ai motogiri lungo gli argini del Po e alle visite guidate al Museo del Fiume e alle altre strutture espositive con il Museo dei Pontieri nel punto in cui qualche decennio fa partiva il ponte in barche che collegava la sponda mantovana di Via Dana presenti nella variegata gamma di moto anche di veri e propri bolidi elaborati con la fantasia fino a trasformarli in una specie di console da disco music viaggianti con tanto di luci lampeggianti colorate e c'è anche chi si ingegna per trasportare con sé in sicurezza il migliore amico a quattro zampe senza il rischio di fargli prendere freddo poi le premiazioni saluti per un arrivederci al prossimo motoraduno sul fiume sono stati nominati due nuovi direttori di struttura all'Arcispedale Santa Maria Nuova si tratta di Annibale Versari alla guida della medicina nucleare e Claudio Tedeschi che dirigerà la medicina fisica e riabilitativa Versari succede a Diana Salvo mentre Tedeschi succede a Giovanni Battista Camurri in previsione delle elezioni del 6 e 7 maggio che rinnoveranno diverse amministrazioni locali nel Reggiano andrà al voto il comune di Campegine sentiamo un messaggio elettorale in ottemperanza di quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2000 numero 28 dalla legge 6 novembre 2003 numero 313 dal decreto legge numero 177 del 31 luglio 2005 dalla legge 7 giugno 91 numero 182 e dalla delibera 4312 CSP del 20 marzo 2012 Rete 7 comunica che intende trasmettere sull'emittente e-tv messaggi elettorali a pagamento sui canali 10, 119, 634, 635, 636 per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali fissate per i giorni 6-7 maggio il regolamento con le condizioni temporali di prenotazione degli spazi le modalità di prenotazione e le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi differenziati anche per le diverse aree territoriali e ogni ulteriore elemento tecnico o circostanza rilevante per la fruizione di questi spazi è depositato presso la sede Rete 7 SPA via Stalingrado 97 barra 2 40 128 Bologna telefono 051 63 81 811 fax 051 63 81 829 ed è disponibile presso le redazioni nelle sedi di Modena telefono 059 88 60 002 e Reggio Emilia telefono 0522 33 21 61 e dopo questo messaggio elettorale noi andiamo in pubblicità ci vediamo tra poco Previsioni del tempo su Reggio e provincia per la giornata di domani venerdì 30 marzo al mattino cielo velato per nubi alte a partire dal pomeriggio cielo sereno le temperature domani saranno comprese tra gli 11 e i 26 gradi Tili Tricolore Meteo Il Meteo è stato offerto da Otton Let vi aspetta nella sala mostra presso lo stabilimento a cortetegge di Reggio Emilia Otton Let vi attende anche nel nuovo centro materassi con le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo Vediamo insieme alcuni appuntamenti relativi alla giornata di domani domani sera a Reggio nella biblioteca di Santa Croce Stefano Bordiglioni nella top 10 degli autori più letti della letteratura per l'infanzia presenterà il progetto Nati per la musica in un incontro aperto a tutti Alla Teatro Valli da domani fino a domenica è in scena l'operetta Can Can con la compagnia Abbati Alle 21 sempre di domani sera al Circolo Pigal di Reggio la compagnia Muse e Musical presenterà il musical Beauty Farm Alla Teatro di Guastalla alle 21 il Don Giovanni di Moliere con Manuela Custerman Ed ora passiamo alla piccolo orologio di Reggio dove da domani a domenica ci sarà l'Isola del Tesoro con la compagnia Mamimou Alla Cavola Forum alle 21 altro appuntamento una commedia dialettale con i Fervecce e terminiamo questa pagina degli appuntamenti con il concerto dei Mano Inò che andrà in scena domani sera al Teatro San Prospero di Reggio E terminata la pagina degli appuntamenti siamo in chiusura come sempre riepiloghiamo le principali notizie di oggi Dopo sei anni di lavori e molte polemiche domani pomeriggio taglio del nastro del nuovo mercato coperto Oggi Store Coin, il plauso di CNA I vertici dell'azienda del trasporto pubblico scrivono al prefetto dopo gli episodi di violenza ai danni dei lavoratori I facchini dell'ex cooperativa GFE restano senza cassa integrazione Da tre mesi non arriva l'assegno, la CGL è accusata di non fornire risposte Isolata la giunta del comune di Novellara sul caso del nuovo megacentro commerciale Contrari e tutte le associazioni di categoria Colpo di scena in consiglio comunale a Guastalla Giunta e maggioranza sull'Aventino per protestare contro il presunto atteggiamento istruzionistico delle opposizioni E' tutto per questa edizione del nostro telegiornale Vi ringraziamo per averci scelto e per averci seguito Buona serata Grazie Grazie Grazie